Del caso Magnanelli e delle parole di Federico Chiesa dopo Udinese Juventus si è parlato anche a Pressing Mediaset, dove Sandro Sabatini ha detto che Chiesa non capisce nulla, così come non capisce nulla chi dice che sia stato Magnanelli a far giocare bene la Juve, perché Magnanelli non è l'allenatore. Chiesa non capisce nulla, possiamo dire che queste dichiarazioni sono leggermente irrispettose nei confronti di un tesserato della Juventus? Ma siccome in questi giorni è pieno il web e sono pieni social di juventini carichi, trionfanti, che però sono anche aggressivi contro chi osa a criticare Allegri dicendo non si attaccano i tesserati della Juventus, mi sarei aspettato una levata di scudia, un'indignazione, perché c'è stato questo attacco ad un tesserato della Juventus, Federico Chiesa. Invece sembra che dell'episodio non parli nessuno e non se ne debba parlare. Sarà forse perché, se difendi Federico Chiesa in questo caso, allora devi accusare Allegri di qualcosa? Solo una domanda, non voglio mica pensare che ci siano Juventini che non sono Juventini, ma in realtà sono solo Allegriani, ci mancherebbe altro.